È l'1.32 quando avviene la tragedia, Sofian Sebki, 30 anni di origini tunisine, è sul peschereccio Poker, dove lavora da alcuni anni come pescatore. È appoggiato alla banda dell'imbarcazione, a poppa, quando all'improvviso un compagno lo vede perdere l'equilibrio, le gambe si alzano e lui cade di schiena nelle acque gelide a tre miglia dalle coste falconaresi. Il dramma si è già consumato, la barca ferma il motore, i pescatori vedono il ragazzo agitarsi tra le acque solo per pochi secondi, lo sentono chiedere aiuto un paio di volte, poi più nulla, una manciata di minuti appena e Sofian non c'è più. È quanto hanno riferito gli altri pescatori, dopo una notte di vane ricerche. Verso le 10.30 al mattino rientrano al mandracchio le imbarcazioni, c'è dolore nel volto dei pescatori e in quello del marito della sorella del marittimo disperso, che ad Ancona abitava da solo. È caduto, non so, si è sbattuto, non ce l'ha fatto notare dopo, con l'acqua fredda non ce l'ha fatta notare. Da quanto tempo lui era qua in Italia? Da 10 anni. C'erano i parenti e qua è venuto quasi. Per tutta la notte le ricerche incessanti del marittimo disperso, con l'impegno della Capitaneria di Porto di Ancona, dei vigili del fuoco via terra e via mare, mezzi aerei dei carabinieri e soprattutto degli altri pescherecci, che come sempre hanno seguito la legge del mare, andando in aiuto per le ricerche del ragazzo. Guarda che se sono riversati tutti lì nei pressi della zona e poi lì cerchi di fare il possibile. È una cosa che ti lascia tanto dispiacere, anche perché noi da stanotte alle due cerchiamo di riuscire a fare qualcosa. Conoscevate questo ragazzo? Sì, ma a prescindere dal fatto che lo conosci o no, è sempre un collega da lavoro. È un ragazzo giovane, 30 anni, lascia tanto rammarico perché comunque sia, non hai potuto oltretutto fare niente. In sicurezza sono state assolutamente rispettate, sembra, stanno eseguendo, stanno svolgendo le indagini sommarie in Capitaneria, sembra negligenza del marittimo, da quello che dicono. Grazie.